ci sono due possibilità questo è il video dei nottamboli del popolo della notte di quelli che vanno a letto tardi oppure questo è il video dei mattinieri di quelli che si svegliano talmente presto per andare a scuola lavoro o a fare qualcosa che si ritrovano nel home di youtube il video in sovraimpressione quindi in un caso o nell'altro buonanotte o buongiorno io vi metto qui a registrare a dire due robe perché quando ci sono queste nottate ragazzi penso che sia logico e naturale aprire quanti più dibattiti possibili ovviamente cercando sempre di mettere il parallelismo con la juventus per cercare di capire in che cosa possiamo migliorare poi ovvio che oggi ragionare in ambito champions quindi europa secondo me è un po eccessivo per la juve dobbiamo inizialmente rapportarci alla serie a però come ben sapete io sono dell'idea che questa stessa rosa della juventus nella serie a di oggi probabilmente è la miglior rosa o se vogliamo la seconda miglior rosa dietro l'inter vedete voi comunque la differenza è abbastanza minima poi è ovvio che quest'estate qualcosa andrà fatto chilini di bala alexandro se vogliamo mettere un discorso ce ne sono tanti che potrebbero uscire quindi qualcosa andrà fatto per forza di cose lasciamo da parte un attimo il discorso legato al mercato di quello parleremo domani anche sulla notizia che è circolata oggi su milinkovic savic concentriamoci su quella che è stata villareal liverpool complimentissime villareal ma veramente tanti complimenti a villareal guardate sono arancio che è un misto tra i due colori delle squadre che hanno giocato stasera sapete come la penso non credo che questo vada a riabilitarla juventus in nessun modo ma nemmeno un eventuale finale del villareal avrebbe riabilitato la juve perché le sensazioni e le emozioni che ho provato in quel juventus villareal 03 rimarranno per sempre secondo me la juventus aveva comunque la possibilità di eliminare villare così come le aveva il bayern monaco ma qui è stato veramente bravo un high emery è stato veramente bravo villareal e l'unica cosa su cui faccio un passo indietro ma in realtà l'avevo già fatto anche qualche settimana fa dopo l'eliminazione del bayern monaco è sulla qualità del villareal perché nel video a caldo post partita poi sapete bene che a caldo si dicono sempre delle cose che magari sono un po più dure e che non avresti magari detto con un po più di ragionamento dietro e cioè l'avevo etichettato una squadra scarsa una squadraccia e invece devo veramente rimangiarmi quelle parole fare i complimenti all'allenatore e complimenti alla squadra perché ha decisamente overperformato siamo di fronte a un piccolo miracolo sportivo ora io sono al solito a scrivere dei pensieri dei ragionamenti che mi vengono in mente sui miei social a riportarli come come post oppure come tweet e quindi dopo aver fatti complimenti a quel mostro appunto di noi a emery passiamo a quell'altro allenatore facciamo i complimenti a jurgen klopp perché ragazzi nelle ultime dieci stagioni dalla stagione 2013 dove arriva in finale di champions col borussia dormund d'underdog in quel caso dove perde in finale contro il bayern monaco andando addirittura in vantaggio su calcio di rigore mi pare con gundogan che potrebbe addirittura essere il suo potenziale avversario in una nuova finale di champions vedete come vanno a intrecciarsi questi destini gundogan diventato un giocatore indispensabile anche per guardiola allenato dai due allenatori che probabilmente ad oggi sono i migliori al mondo ci sarebbe anche ancelotti ci sarebbe anche zed anche però in questo momento è fuori dai giochi comunque questi sono bene o male i nomi più ricorrenti ad alti livelli in europa negli ultimi anni quindi è giusto inserirli in questa categoria macro categoria di allenatori migliori al mondo al momento e quindi nelle ultime dieci stagioni raggiunge quattro finali di champions quella col borussia e tre con il liverpool una vinta una persa una vinta nell'anno dopo quella sconfitta in finale con carius con il real madrid ricorderete tutti vinta poi danni del tottenham tra l'altro real di zidane real di ronaldo delle tre champions di fila consecutive ultimo anno di ronaldo prima di arrivare alla juve quindi vedete come tutto è collegato e tutto qui tutto bello però club veramente ce la fargli i complimenti e ce la fargli i complimenti al liverpool perché probabilmente questa è una vittoria collettiva ecco quando parliamo di queste cose è sempre bene sottolineare una cosa e cioè che jürgen klopp arriva al liverpool subentra a brendan roger arriva ottavo in quella stagione in cui riparte dal liverpool fa altre due stagioni senza vincere arriva una volta quarto forse addirittura due volte quarto una terza comunque arriva semplicemente a qualificarsi alla champions e poi pian piano costruendo negli anni la squadra insieme alla società aggiungono un pezzo di qua un pezzo di là aggiungono un anno Sadio Mane un anno Momo Salah un anno Allison poi un anno Thiago Alcantara iniziano a valorizzare alcuni giocatori interni è stato un percorso processo lento che ha necessitato di diverse stagioni di ricostruzione perché il liverpool comunque non era più un top club da diversi anni a questa parte e questi sono i risultati l'unica cosa che mi fa ben sperare nei confronti della juventus è la seguente che dopo le ultime tre stagioni in cui abbiamo avuto una costante e cioè si cambiava se davvero andremo avanti con Massimiliano Allegri che può piacere o non piacere l'idea che ci sia un'unità di intenti tra la società l'allenatore e la squadra e la squadra che venga costruita secondo l'idea dell'allenatore e della dirigenza è l'unica cosa che davvero mi fa stare un po' tranquillo perché sennò ci sarebbe da strapparsi via i capelli in maniera ossessiva compulsiva invece no ecco questa è l'unica davvero cosa positiva che posso trarre dal discorso poi sapete come la penso secondo me la juventus oggi se non vuol fare a brutta figura non può esonere Massimiliano Allegri e in caso di esonere Massimiliano Allegri credo che debba cambiare anche completamente il quadro dirigenziale della juve per ripartire con un progetto in cui la dirigenza sceglie un allenatore e gli dà sostegno chiave mercato fiducia continuità perché questi poi sono i risultati è normale che a un certo punto se si lavora bene nella continuità i risultati arrivino se tutti gli anni invece cambi 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 allora i risultati difficilmente arriveranno non è facile vincere sempre alla prima occasione non parlo di Champions perché lì veramente andiamo anche molto nella fortuna se vogliamo infatti è incredibile che Klopp venga a fare quattro finali in dieci stagioni e tre finali nelle ultime cinque stagioni a mani basse ma l'ho già detto tante volte il calcio del Liverpool è quello che mi diverte di più perché è un calcio aggressivo è un calcio di intensità tanto ritmo io credo che comunque al di là del fatto che il Villarreal sia andato avanti 2 a 0 nella partita d'andata di ritorno a questa sera nel primo tempo ragazzi non c'è stata partita all'andata potevano veramente farne 200 quelli del Liverpool addirittura 2 gol annullati per fuori gioco forse 3 addirittura mi pare 2 forse c'ho il dubbio del terzo ma questo poco cambia e poi i cambi che hanno fatto con Diaz che entra e cambia completamente la partita un altro Liverpool un'altra mentalità completamente differente negli spogliatoi Klopp sicuramente avrà fatto un discorsino che è andato a toccare le corde giuste e quindi proprio qui voglio arrivare perché possono cambiare gli allenatori possono cambiare i giocatori possono cambiare le dirigenze però una cosa sola secondo me non cambierà mai nel calcio e possono cambiare i modi di giocare e di interpretare la partita perché quelli poi vengono determinati il modo in cui gioca una squadra la qualità del gioco che esprime una squadra secondo me è strettamente collegata intanto alle richieste dell'allenatore certo ma anche le caratteristiche tecniche dei calciatori questa è una cosa che secondo me rimarrà per sempre aggiungo che nel calcio rimarranno sempre quelle due regole e ve le torno a dire tutte le volte che guardate la Champions League rimango sempre più convinto di questa cosa il saper rimanere dentro la partita che è fondamentale che è per questo che mi sono arrabbiato tremendamente con la Juve dopo che ha preso l'1 a 0 dal Villareale in casa esce sciolta come neve al sole non è stata in grado di rimanere all'interno di una partita che durava ancora 10 minuti 12 minuti 13 minuti più recupero certo era poco ma il tempo c'era per provare invece sciolti completamente non siamo stati in grado di rimanere dentro la partita di trovare la possibilità di andare a fare un gol e quindi di sfruttare le occasioni che è la seconda cosa ma ci arriviamo il Villareal stasera stava vincendo ma il Liverpool non è mai uscito dalla partita mai 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 è rimasto aggrappato e poi è riuscito a sfruttare le occasioni ed è per questo che il Villareal ci ha eliminato ed è per questo che stasera il Liverpool ha eliminato il Villareal e va in finale semplicissimo è al di là di tutto la dietrologia sul bel gioco sui risultati queste sono due cose che non cambieranno mai aggiungo il Real Madrid può ancora sperare di andare in finale ed è in semifinale proprio per questo perché rimane dentro le partite e sfrutta le occasioni anche se sono poche anche se sono meno non importa tirare in porta 50 volte a partita se poi non fai mai gol non importa andare sotto se poi rimani nella partita e hai la forza di recuperarla sfruttando le occasioni sono le cose le due cose principali nel mondo del calcio qualcuno potrà dirmi sì va bene bravino Klopp però negli anni si è costruito una rosa da 4 5 6 7 8 9 milioni 100 milioni quello chi sono 900 milioni 800 non lo so quanto hanno speso sì certo ma ragazzi il calcio a questi livelli qua questi livelli altissimi si gioca così si gioca in questo modo le squadre devono essere composte da ottimi giocatori e gestiti allenati da ottimi allenatori se una di queste componenti viene meno e sono due componenti più la dirigenza che deve cacciare i soldi per comprare i giocatori pagare i giocatori trattenere i giocatori pagare gli allenatori mantenere le strutture ad alto livello quindi deve essere veramente un triangolo perfetto un connubio perfetto tra queste tre figure se queste cose vengono meno è difficile vedere continuità di rendimento a questi livelli con delle squadre allenate magari da grandi allenatori ma con pessimi giocatori o non al livello di quei giocatori lì o squadre fortissime gestite da allenatori mediocre è normale che se arrivi a questi livelli qui devi avere i giocatori forti gli allenatori più bravi la dirigenza più capace e i soldi ed è per questo che io qui applaudo applaudo il Villareal che non mi è cambiato niente perché quello 0-3 ce l'ho ancora qui e mi rimarrà qui e mi rimane qui anche perché non avevamo nemmeno più scatto di Villareal all'inizio abbiamo preso lo sport in Lisbona una roba da matti questa cosa lasciamola da parte ma la Villareal ha fatto un piccolo miracolo sportivo proprio per questa cosa qui è l'underdog come magari era stato il Borussia di Klopp qualche anno fa una Iemeri si conferma un grandissimo allenatore soprattutto all'interno delle competizioni europee un pessimo avversario da pescare ce lo ricorderemo non ci dimenticheremo assolutamente dello scherzetto che ci ha fatto ma queste sono cose da ricordarsi continuità sì a patto che tutti siano uniti verso quell'intento lì e col tempo con la calma con la tranquillità se gli allenatori sono bravi se i giocatori sono bravi se le dirigenze sono brave allora poi i risultati arrivano cambiare sempre al volo può capitare anche di vincere ce lo dice la Champions League stessa l'anno scorso ha vinto Tuchel subentrato a Lamparda a stagioni in corso io mi ricordo che l'anno scorso diceva perché non abbiamo esonerato Pirlo a stagioni in corso per metterci in un altro che ci avrebbe potuto poi portare oppure l'anno prima col Bayern Monaco di Flick che è subentrato a Kovac che allenava all'inizio e ha vinto non c'è un modo unico non c'è poi se dobbiamo parlare di continuità di rendimento allora sappiamo che il modo migliore è la continuità del progetto e ce lo dice il Real Madrid di Zidane che per tre volte di fila vince la Champions quattro Champions in cinque anni ce lo dice appunto il Liverpool di Klopp che fa tre finali in cinque anni e domani sera ce lo potrebbe dire addirittura il Manchester City di Guardiola che potrebbe andare a fare la seconda finale di Champions consecutiva apro e chiudo parentesi dovrebbe essere addirittura la terza nel caso finale di Champions tutte inglese negli ultimi quattro cinque anni ora non ricordo Liverpool Tottenham in cui vince Klopp la prima Champions con Liverpool dopo aver perso da Real Madrid l'anno scorso Manchester City Chelsea dove appunto vince Tuchel e potremmo avere nuovamente un Manchester City Liverpool che è la grande sfida che in questo momento c'è in Premier due squadre che stanno tenendo ritmi altissimi a un punto di distanza e ancora una volta ci fa capire che sì gli allenatori sì i calciatori sì le dirigenze ma c'è un campionato che è molto 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 più avanti rispetto a quegli altri che appunto la Premier League e non so se non arriveremo mai a pareggiare quei livelli e a riportare almeno anche solo un'italiana nella fase veramente finale della Champions o una semifinale o una finale italiana pensate riproporla tre volte in cinque anni o portare la stessa squadra tre volte in cinque anni in finale di Champions o portarla due anni di fila stiamo parlando di livelli differenti e sono proprio cose diverse da quelle che viviamo noi internamente al nostro calcio però noi piace continuare a fare le polemiche quindi va bene così Grazie a tutti